Buonasera, grazie innanzitutto alla moderatrice, grazie a Transformitalia, LEFT, Laboratorio Sud e soprattutto alle relatrici e ai relatori di questo libro che considero prezioso e poi grazie per avermi voluto con voi per una riflessione, ovviamente gli argomenti sono tanti, cercherò di essere breve, sperando però di essere anche abbastanza efficace. La prima considerazione che farei è che noi ci troviamo in questo momento, in un momento storico in cui non si travedono assolutamente, come avete detto anche voi, cambi di rotta per ridurre le disuguaglianze geopolitiche e le discriminazioni territoriali. E quindi sovviene anche un altro elemento, su cui poi ci ritornerò, che la questione meridionale va affrontata soprattutto partendo da Sud. Cioè io ho sempre pensato che è fondamentale un grande processo di autodeterminazione popolare, di conquista dei diritti e di lotta popolare, per andare poi mai col cappello in mano, come fanno la gran parte delle classi dirigenti meridionali, a rivendicare i propri diritti nei luoghi della Repubblica Italiana e nei luoghi in cui si dovrebbe mantenere un'Italia unita nelle proprie differenze. Anzi, io vedo che in questo momento, non solo per la questione Sud, ma in generale, stiamo affidando la cura, la medicina a tutti quei dottori che ci hanno ridotto a vittime e pazienti. Cioè è chiaro che il governo Draghi, per le sue relazioni internazionali, per il suo essere il luogo del pensiero unico, per lo svuotamento dei bilanciamenti dei poteri costituzionali, il Parlamento ridotto a brandelli, la magistratura piegata da un crollo morale, una stampa quasi sempre uniformata, è lo scenario ideale per raccontare al Paese che si riparte solamente se irrobustiamo e rendiamo un po' più giovane apparentemente il capitalismo che si trova. in una fase senile, ormai piuttosto strutturata. Allora il Sud in questo momento non è un problema per me. Il Sud in questo momento è la soluzione. Cioè noi ci dobbiamo convincere, questo è un tema complesso, che riguarda anche un piano filosofico, antropologico, psicologico e esistenzialistico, che noi potremmo essere, se ce ne convinciamo, la soluzione. Perché il Sud è il luogo ideale in cui sovvertire le politiche neoliberiste e di questa fase ormai senile, pericolosa, perché rischia di essere profondamente autoritaria del capitalismo. Perché a Sud si può costruire un rapporto nuovo tra spazio e persona, tra territorio e comunità. Come diceva la nostra moderatrice, ci vuole un piano per lo sviluppo. Io quando sento questa parola mi viene in mente l'articolo 3, secondo comma, sullo sviluppo della persona umana che per raggiungere dobbiamo rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Ecco, al Sud lo sviluppo non è il consumismo universale, può non essere il consumismo universale. Noi possiamo costruire un rapporto sviluppo della persona umana in cui il progresso non significa distruzione, il progresso non significa privatizzazione, ma può significare valorizzazione, preservazione, ricchezza naturale, agricoltura biologica, industria compatibile con l'ambiente, rigenerazione urbana, spazi abbandonati, beni comuni, proprietà collettive demaniali e tante altre cose su cui anche io per ragioni di tempo non mi soffermo. E quindi ecco che noi però per poter realizzare questo dobbiamo provare a portare anche delle testimonianze concrete, non solo in termini di parole, ma di storie che puoi costruire un sud diverso. Perché è chiaro il disegno governativo, se noi guardiamo i criteri di spesa storica che vanno avanti da tempo e che ha citato Natale, se guardiamo il PNRR come hanno modificato le risorse che sono adesso più destinate al nord che al sud, se guardiamo l'autonomia differenziata, se guardiamo la subalternità della classe dirigente politica e non solo verso Roma, il quadro apparirebbe devastante. Allora per poter avere delle ragioni di ottimismo dobbiamo partire da un'analisi concreta di come a sud si può resistere e magari provare se riusciamo a essere uniti, uniti pur nelle diversità, a contrattaccare. E vi porto due esperienze che non so se sono perdenti, vincenti, non lo devo dire io. Una è sicuro apparentemente perdente che però ha anche un po' cambiato il corso della giustizia del nostro paese. Lo do proprio come flash. Quando ho svolto le funzioni di magistrato per tanti anni in Calabria, per nove anni, e dove poi sono saltato, volendo fare il magistrato a sud, attenzione, potendo fare anche ben altro nella mia vita professionale stesso da magistrato, ho affrontato il tema centrale secondo me del consolidamento della borghesia mafiosa nel nostro paese, in quel caso nel mezzogiorno, che è il controllo della spesa pubblica. Io sono saltato perché ho individuato da uomo del sud, da magistrato a sud, nella regione più difficile d'Europa, come attraverso il controllo della spesa pubblica un oligopolio, un'oligarchia, poche persone tenevano sotto scacco istituzioni, politica, spesa pubblica, lavoro, voto. Ecco, bisogna far saltare innanzitutto il blocco della borghesia mafiosa, che è molto tra l'altro in fase di consolidamento in questa fase del PNRR. Quindi il primo tema è la spesa pubblica, il contagio criminale, la borghesia mafiosa. E là, quindi, uno potrebbe dire, beh, tu sei stato sconfitto, ma questo non è, non abbiamo il tempo per affrontarlo. Un'altra volta, quando vogliamo, il tema magistratura lo possiamo affrontare. Però è un tema importante, secondo me, per capire la questione meridionale e per capire la subalternità della classe dirigente ai poteri romani, perché a loro conviene, conviene quel filo nero che collega attraverso la spesa pubblica a Bruxelles, Roma, le regioni, la classe politica, che collude con i privati. Non in maniera virtuosa, perché pubblico e privato possono concorrere anche in maniera virtuosa. Se il pubblico non perde la visione e la direzione, il privato può avere un ruolo importante. Penso alle imprese di comunità, il terzo settore, le cooperative, il mondo agricolo, eppure qua dico velocemente, sennò perderei molto tempo. Quindi la prima testimonianza è stata, secondo me, quella di dimostrare con quel lavoro qual è il cancro, qual è il blocco sociale, qual è il collasso democratico che c'è nel mezzogiorno attraverso il controllo della spesa pubblica. Mentre noi parliamo, già sono in corso trattative, salotti, stanze di compensazione, compreso nella mia città, dove si sta decidendo, eppure in Calabria è così, ma sono convinto che in tutta Italia è così, dove si stanno decidendo in una logica piduista, cioè si decidono in luoghi extra istituzionali e poi si ratificano le decisioni nelle sedi istituzionali apparentemente rispettando la legalità formale costituzionale che invece viene corrosa da atteggiamenti eversivi di tipo piduista. La seconda testimonianza, anche qui rapidamente, è da sindaco. Consentitemi di dire, al di no, no, non teniamo il tempo di fare un'analisi, però visto che Giovanni l'ha introdotta, io sono stato il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806. Ho avuto all'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia. È stato un governo autonomo che nonostante un debito storico ingiusto, nonostante senza soldi, nonostante gli ostacoli dei governi regionali, dei governi nazionali, la stampa contro, la camorra contro, il sistema contro, noi abbiamo dimostrato che si può resistere fino anche a realizzare. Si può non privatizzare un servizio di rilevanza costituzionale e far funzionare le partecipate, si può fare l'acqua pubblica, si può valorizzare il patrimonio, si può far partecipare i giovani, si può fare la politica dei beni comuni, si può lasciare la camorra fuori dal palazzola, si può far diventare prima città per crescita culturale pur tra i mille difetti, quindi non sto facendo l'elogio o il paradiso di Napoli, ma sto dicendo dei titoli per far comprendere come si può da sud resistere all'amo avvelenato di dirti eh vedi fai la politica isolazionistiaca e quindi per questo non venite aiutati, non è vero, è una politica di autonomia e l'esperienza, Giovanni ha citato un aspetto che mi interessa molto ma non abbiamo il tempo, di come l'esperienza napoletana, dei tratti ovviamente dell'esperienza più a sinistra d'Italia, ma anche dei tratti incredibilmente tipici di una città anarchica come Napoli e penso all'esperienza del neomunicipalismo, della storia di cui parlò Malatesta, anche il pensiero anarchico per certi aspetti che è passato da Napoli, delle federazioni comunitarie libertari, cioè alla fine i beni comuni su cui abbiamo lavorato insieme è un'esperienza di autogoverno, autogestione, usi civici, proprietà collettive democratiche ed è chiaro che questa esperienza doveva essere distrutta, Giovanni, perché questa esperienza dimostra che un'alternativa è possibile utilizzando il diritto in maniera rivoluzionaria. Il diritto non è repressione, è anche repressione, ma è soprattutto espansione. Se guardiamo la Costituzione, ditemi che cosa c'è di repressivo e chi la doveva attuare che l'ha repressa. Ecco perché mettere insieme alternativa politica, culturale, sociale e economica, morale. Quindi la questione morale. Per poter affrontare la questione meridionale devi lavorare molto sulla questione morale, sulla rottura di quel blocco di cui abbiamo parlato prima. Quindi che cosa dobbiamo rompere? Questi tre schemi. Noi siamo per i diritti, loro sono per le concessioni. Perché loro non vogliono diritti, ma vogliono privilegi e concessioni. Vogliono che l'acqua non esca ogni giorno dai rubinetti come in Calabria, che gli ospedali non funzionano, che i servizi non vanno, perché ci sarà il politico di turno che ti deve dare quel diritto come una concessione. Quindi non vogliono cittadini, ma vogliono sudditi. E non vogliono partecipazione, ma vogliono rassegnazione. Loro hanno un orgasmo politico quando vedono rassegnati. E anche la desertificazione giovanile a sud è servente a questo disegno. Perché se non ci sono i giovani, chi la fa la rivoluzione? Oggi la Calabria ha bisogno di una grande pagina di insurrezione culturale, politica, pacifica. Lo dico subito, altrimenti mi hanno già più volte detto che io sono un anomalo ex magistrato, uno delle istituzioni perché istigherei alla sovversione. Io istigo alla sovversione costituzionale di fronte al disegno eversivo che sta svuotando la costituzione del nostro paese. Io istigo a una ribellione culturale pacifica. Noi dobbiamo riscrivere una nuova lotta di classe, dal cominciare a riprendersi le terre, riprendersi gli spazi pubblici, riprendersi i beni comuni, i diritti essenziali dall'acqua alla terra, al mare, alle foreste. Pensiamo agli incendi di quest'estate e potrei continuare. Insomma, io questa cosa ci credo molto, però ci credo che questo debba passare attraverso una grande mobilitazione popolare, attraverso l'intelligenza di individualità, personalità e esponenti di collettività importanti del provare a stare insieme. Uniti noi possiamo rappresentare sicuramente un'alternativa. Quindi, da questo punto di vista, e che mi avvio e concludo, perché avrei tante cose da dire, ma non voglio abusare della vostra pazienza, anche l'esperienza, diciamo, calabrese di quest'ultima tornata che voi avete citato, secondo me è stata interessante. Io sicuramente sono un romantico anche della politica e pensavo che addirittura si potesse vincere, però poi a mente fredda, da soli, con uno zainetto, senza soldi. Noi non teniamo i soldi, come dire, che arrivano a Renzi, a Salvini, a Grillo. Quindi andiamo avanti con volontari, militanti, senza un manifesto. Nella regione sicuramente più complessa d'Europa, aver preso il 17%, 130 mila voti, il movimento più votato dopo Forza Italia. Io, tra i candidati presidenti, quello che ha preso le maggiori preferenze personali, con alcune città dove il peso del controllo è meno forte, siamo arrivati oltre il 30, penso a Cosenza, 32, Rende 34, che è la città con il maggior numero di giovani. Insomma, io credo è un segnale. È un segnale che quando si va uniti, insomma, si può andare lontani. Pensate che cosa possiamo fare se costruiamo un'alternativa al draghismo, al pensiero unico, alla distruzione della Costituzione, a parlare di ambiente, di diritti costituzionali, di questione morale. E concludo non solo nel parlare, consentitemelo di dire, nel raccontare storie. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme non solo bravi oratori, abbiamo bisogno di mettere insieme storie coerenti e credibili. Io dico sempre che se vogliamo fare la rivoluzione c'è bisogno di mettere insieme alcuni ingredienti che non si comprano al mercato, che sono l'onestà, la libertà. In un paese in cui tutto sembra avere un prezzo, quando non hai prezzo, paghi un prezzo, ma non c'è prezzo a non avere prezzo. Scusatemi il giro di parole, ma libertà, autonomia, indipendenza, ovviamente la competenza per affrontare una rivoluzione di questa portata, coraggio, passione e quel pizzico di follia che non ti fa fare il calcolo, mi conviene o non mi conviene. Io ci sto. In questo momento mi sento di dare il mio piccolo contributo per quello che può essere la mia storia, la mia esperienza, con umiltà ma anche con tanto entusiasmo, per il nostro sud. Io mi sento orgogliosamente innanzitutto meridionale. Ovviamente sempre grato ai miei genitori di avermi fatto vivere a Napoli. Amo la Calabria che mi ha anche ferito profondamente come terra, tra virgolette, ma non come popolo e come regione. Mi sento italiano, mi sento mediterraneo, mi sento, diciamo, come tutti, un cittadino del mondo, un clandestino del mondo. Quindi mi fa piacere, come dire, che abbiamo discusso di questi temi così importanti. Ho trovato molto validi tutti i contributi che avete messo in questo libro, diversificati, di tanti amici anche che conosco. Io penso che l'Italia e il sud hanno le intelligenze e le personalità in grado di poter affrontare a testa alta, con orgoglio, questa lotta. E poi, come ci ha insegnato a noi tutti Che Guevara, chi non lotta già perso, chi lotta può vincere. Io, siccome nella mia stanza di sindaco, consentitemi, questo forse è una cosa politicamente non corretta, io tenivo sei Che Guevara e un Presidente della Repubblica. Ma era semplicemente, perché ognuno di noi poi è cresciuto anche con dei miti quando era ragazzo, a me Che Guevara mi è sempre piaciuto molto e mi ha insegnato molto. Oggi è il momento di lottare con romanticismo, ma anche con concretezza e con realtà. Ci vuole il romanticismo della passione, senza fare troppi calcoli, ma dobbiamo organizzarci meglio rispetto ad alcune sfide che abbiamo certe volte messo in campo insieme. Forse il nostro limite, chiudo, è stato proprio quello di non riuscirci sempre ad organizzare al meglio. Oggi ci tocca organizzazione, contenuti e passione. E di questo vi ringrazio perché io lotterò sempre da sud. Questo forse è un mio limite, ma la mia lotta sarà sempre da sud in una visione mediterranea. Io penso che realmente oggi, partendo e dopo aver attraversato anche una serie di altri incontri, noi del Laboratorio del Sud ci dobbiamo sentire il dovere e quindi ci dobbiamo impegnare anche per le cose, i concetti introdotti da Luigi De Magistris Pocanzi alla costruzione di un'assemblea meridionale. Un'assemblea meridionale che mette insieme il sud del riscatto contro la narrazione che prima un po' tutti abbiamo ripreso, che sta tutta dentro l'artificio di questo capitalismo che Luigi definiva senile, ma che purtroppo sta là e sta svolgendo ancora un movimento rivoluzionario attorno a sé che stravolgerà ancora di più quella che è la società del futuro. E quindi io sono d'accordo con Luigi De Magistris quando parla di una nuova lotta di classe che si articola all'interno di un nuovo mercato del lavoro e che è uno degli elementi per i quali bisogna assolutamente agire insieme alla questione dell'ambiente, insieme alla questione anche femminile che attraversa il mezzogiorno. Quindi io penso che noi dobbiamo, lo sottolineo di nuovo così iniziamo a costruirlo, essere capaci di costruire questa assemblea dove insieme mettiamo tutta quella rete con la quale abbiamo collaborato su fronte dei reggimenti, dell'autonomia differenziata, della sanità, del mutualismo. Quindi questo insieme di saperi e di comunità per fare in modo che quella affermazione di Luigi diventa un percorso politico vero. Il sud che sovverte quella che è la situazione attuale e che diventa risposta in positivo per un paese migliore che non può più articolarsi attorno alle solite ricette perché poi c'è da dire una cosa, noi parliamo di un territorio, parliamo di mezzogiorno, ma abbiamo detto che la questione meridionale sta in termini di classi subalterne e le classi subalterne sono presenti in ogni realtà che hanno un nord e che quindi consegnano un sud. E da qui sono molto d'accordo con Giovanni quando parla dell'unità proletaria da nord a sud del nord con il sud del sud del nord del nord cioè per inderderci perché appunto c'è una trasversalità. E questa grande rivoluzione delle classi subalterne ha visto come interprete il Guevara prima evocato da De Magistris. Quindi io ci lascerei con questo impegno di tutte e tutti nella costruzione di questa importante assemblea per il futuro di questo paese e di questo mezzogiorno e proprio nell'articolazione di quello che dicevamo in partenza, di un mezzogiorno che trovi una collocazione in un'area straordinariamente importante per cultura, per contaminazione, per economia che è l'euro mediterraneo.